Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Xandrix e oggi siamo tornati in un nuovo video, come promesso, dopo un mese. Non ho fatto più sapere niente, magari non ho avvertito voi e comunque stavo pensando, riflettendo, facendo una pausa, ecco. Dopo tutti questi video su YouTube ho deciso anch'io di fare una pausa, non per niente, no, ho deciso semplicemente di fare una pausa, organizzarmi meglio con i contenuti e infatti l'ultimo video risale a più di un mese fa. Mi dispiace se, come posso dire, non ho più trovato tempo per fare video, ho avuto altre cose e quindi niente. L'ultimo video risale più o meno al 9 di ottobre, ho controllato, 9 di ottobre 2020 e oggi siamo al 25 di ottobre, no, 24, scusate, per due giorni. Comunque, 24 di ottobre oggi e quindi niente, non è successo nulla di particolare in questi, in questo mesetto e mezzo più o meno non è successo niente. Tutto ok, più o meno come sempre e quindi niente ragazzi, sono tornato e ora cercherò di mantenere il ritmo con YouTube e con gli impegni che prenderò o che non ho, attualmente non ho impegni. Comunque, vedrò se riesco a organizzarmi per portare i contenuti. Pensavo di portarvi anche questo gioco qua, per PS4, FIFA 21. Pensavo anche di portarvi quest'altro gioco qua. Ho anche questo, questo, ho messo a fuoco. Pensavo di portarvi anche questo, contenuto di YouTube che comunque è sempre un contenuto buono perché è un gioco buono. Che poi... e quindi niente ragazzi. In questi giorni vedrò se riesco a caricare qualche video nuovo, già cominciato da qualche gameplay così. Non posso assicurarvi che farò qualche live. E per quanto riguarda Red Dead Redemption 2, non so se portarlo su PC, non sono ancora tanto convinto. E penso, però non lo so, vediamo. In questi giorni deciderò che cosa fare. E quindi niente, per ora è quanto FIFA 21 e Formula 1 2020. Penso anche a Red Dead Redemption 2. E qualche altro gioco, insomma PS4 PC facciamo un po' così. Poi vabbè è uscita la PS5, ovviamente io non ho una PS5 ancora. A causa, oltre che non si trova, poi i prezzi sono troppo alti. Quindi non mi è possibile acquistare una PS5. E quindi forse prossimo anno vedremo se sarà l'anno buono e se mi sarà possibile, ovviamente. Quindi ragazzi niente, eccomi qua. Sono ritornato per chi pensava che è successo qualcosa a Morton. No, no. Io ci sono sempre, non vi preoccupate. E niente. Allora, detto questo, direi che è tutto. Non vi dico nemmeno se il video vi è piaciuto. Semplicemente se volete mettere un mi piace per questo ritorno. Spero che vi abbia fatto piacere di aver aperto questo video. E niente. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao. Ciao.